Nuova tappa per la realizzazione della Banca Popolare di Prato. Il Comitato Promotore ha inviato alla Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'apposita documentazione per dar via all'iter di Costituzione della Banca. Vediamo. Abbiamo iniziato il percorso ufficiale per la richiesta di autorizzazione all'ente preposto per rilascio dell'autorizzazione per la raccolta del fondo, dei fondi e dei capitali. Che risposta avete avuto dai cittadini, dalle aziende, dal mondo delle istituzioni? Anche qui un percorso molto interessante che è durato nel tempo con colloqui continui, degli incontri privati, pubblici, con enti importanti della città, amministrazioni, industriali, imprenditori, persone comuni. Abbiamo avuto una risposta veramente eccezionale da parte della cittadinanza che ci ha convinto ancora di più ad andare avanti nel progetto che abbiamo proposto. Voi vi proponete come banca 3.0, che cosa significa? Noi pensiamo di creare un istituto bancario che tenga sotto controllo tutti i costi gestionali, che è un problema delle nostre aziende, ma specialmente degli istituti bancari, e che grazie alle nuove tecnologie porti a un taglio drastico dei costi gestionali stessi. Però allo stesso tempo che sia una banca del territorio che abbia un contatto continuo, costante con le persone, in modo particolare i soci che la compongono.